Bella a tutti ragazzoli e benvenuti nell'ottantoottesimo episodio della nostra Master League con l'Inter, signori, su ISPRO Evolution Toucher 2. Signori, siamo reduci dallo scorso video in cui abbiamo perso 4-3 contro il Milan con un uomo in meno. Siamo pronti per la seconda partita di campionato, signori, quindi pronti e carichi, speriamo di riuscire a fare qualcosa di interessante. L'obiettivo di quest'anno, signori, è realistico, ovvero magari arrivare a fare le prime 8, a metà classifica, signori, non penso riusciremo a portarci a casa lo scudetto come è stato con la Roma nella scorsa stagione, la vedo molto difficile, però puntiamo a quello, noi signori, puntiamo a quello, magari al secondo posto, magari sì, magari tra le prime 8, magari tra le prime 8 sarebbe già qualcosa di un successo per noi, signori, perché la vedo molto complicata. Allora, giochiamo contro l'Arsenal, ottimo, dell'ex Henry, non è lì, Henry? Sì, sì, Henry è proprio lì. Allora, noi abbiamo Valeri fuori, perfetto, quindi abbiamo Turam centrale, Dusic e Stromer, Vorland, no, facciamo nota, Dusic, Vorland e lo mettiamo dietro, anche se non è velocissimo, no, Vorland e lì no, Dusic, Spimas, Bourget, Ronaldo, Claudio Lopez e Babangia. Mi dice una cosa, scusa, tanto, mette più veloce, mette a più velocità, e là me lo mette in difesa, mette, giusto, giusto a posto di Dusic, che velocità è terribile, proviamolo in difesa, mette, signori. Detto questo, prima di partire il video, signori, vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto, e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Allora, abbiamo una bella partita con l'Arsenal, filmerebbe il pareggio? Sì, signori, filmerebbe il pareggio, anche perché dobbiamo iniziare a fare qualche punticino, perché senza punticini i giocatori non ne arrivano, signori, e senza giocatori ne arrivo, noi sta squadra non la miglioriamo. Sarebbe ora anche di riuscire a migliorare un attimo questa squadra, mannaggia, mi ha fatto il pezzo, mannaggia, mi ha fatto il pezzo. Calma, calma, relax, calma, relax, teniamoli, teniamoli, con calma, con calma, con calma, mannaggia, 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 mannaggia. Mamma mia, l'ho vista dentro, mamma come l'ho vista dentro, arrivo, levo il gol dell'ex, che poi non è ex, però del quasi ex, dell'ex è un pezzo. No, no, ma porca, ma porca della paletta ambriaca, guarda, tu guardalo, no. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa? Come si fa a perdere sto pallone? Perdere sto pallone, guardalo, lo lancia in velocità, e Spimas l'abbiamo persa al bar, meno male che siamo riusciti ad anticipare di testa, guardalo, guardalo. Bravissimo, lancia Bamba, Bamba non ti farà anticipare, mannaggia, 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 pallone veloce, pallone veloce, pallone veloce. Ma dai, ma come fuori gioco? Ma di chi? Di Claudio Lopez? Erano tutte e due oltre la linea, erano tutte e due oltre la linea, mannaggia a loro. Mannaggia a loro, a chi non glielo dice pure, un'azione che riusciamo un attimino a impostare un pochino meglio. Esce e scivano, va bene. Abbiamo salvata sul salvabile. Ronny, Ronny, Claudio Lopez, facci Claudio, facci Claudietto, facci Claudietto, non ci pensare. No, 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 Claudio mio, Claudio mio, no. L'ha incolata troppo, ma porca. Ma porca miseria, dai che mette veloce, dai che mette veloce, che grandissimo mette. Mannaggia a te, espimas, lancialo. Vai bamba, vai bamba, vai bamba, vai bamba. Dai che era mio, ma porca. Ero riuscito a passargli davanti, signore, ero riuscito a passargli davanti. Tu vai, tu vai, tu non ti preoccupare, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu crossala. Bello il cross. Ronny però non si fa trovare pronto. E questa la perdiamo. Mannaggia. Calma, 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 calma. Calma, Turam è tuo, Turam è tuo. Grandissimo Lilian. Grandissimo Lilian. Parla per il bamba, che è sul filo del... Grandissimo Babangita. Grandissimo bamba. Grandissimo... No. Mannaggia. Mannaggia. Sul filo del... Della rimessa laterale erano riusciti. Grandissimo Stromer. Riesce a fermare Dickinson. Bravissimo Stromer. Fuori sta palla. Bravo, fuori gioco. Va bene così, va bene così. Va bene così. Buttala sotto. Buttala sotto senza pensarci. Non ci pensare troppo. Babangita, non ci puoi andare tu di testa. Perché punta sempre su Babangita quando deve fare i rimessi dal fondo? E non punta su Claudio Lopez. Che è più alto fisicamente. Dai che se l'era portata fuori. Mannaggia alle vostre sorelle. Bravissimo Matt. Bravissimo Matt. Sempre sotto sto pallone. Sempre su Babangita. Sempre su Babangita. Non riusciamo a... Non capisce che deve puntare su Claudio Lopez. Non... Non gli è chiaro questo passaggio. Grandissimo ancora. Grandi, grande, 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 farla uscire. Lancia il Bamba. Grandissimo Babangita. Grandissimo Bamba. Grandissimo Bamba. Grandissimo Bamba. Grandissimo Bamba. No. E vabbè, mette alto un metro a tic tac. giustamente se recuperiamo di velocità perdiamo di altezza giustamente però però così no così mi sembra un pochino esagerato l'ho toccata no non l'ho toccata ma nella vita cosa cazzarola è successo non lo so però erano riuscito a fare una bella azione riuscito a fare una bella calma calma relax calma relax no 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 grandissimo che dici bravo bravo stromer bravo stromer bravo stromer bravo stromer bravo stromer tanto sta palla arriva qui grandissimo turam no 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 signori qualcuno che lo che grandissimo for landen finalmente for land è tornato a fare quello che sa fare l'angelo fermati bamba no ma porca miseria mi ero fermato mi ero fermato in tempo mannaggia te a chi non te lo dice pure mi ero fermato in tempo grandissimo ivanov ogni tanto riesce a fare qualcosa di buono turamma mio turamma mio quando è così butta la sotto non fa sti passaggi stupi cercato un passaggio inutile mamma mia mamma mia vai turam vai babangita vai babangita che no dai l'ho passato dai questo questo è bastaldata però ero passato signori ero riuscito a passare dai io ero pronto a tirare non mi ha fatto tirare praticamente mi sembra giusto mi sembra corretto signori mi sembra una cosa corretta no mamma mia sempre o no salta ronaldo salta il pallone l'ha preso ronaldo ronaldo ronni 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 che decida allargarsi si allarga ronni si allarga ronni signori e niente non non riusciamo non riusciamo ad accedere in velocità signori non riusciamo a cercare attenzione al bamba attenzione al bamba 12 veloce ronaldo no perché l'hai stoppata così male ronni perché l'hai stoppata così male la perfetta era macchi macchi busce busce cerca il bamba che cerca ronni cercato il claudio lopez in profondità non ci sono riuscito da teniamo il primo tempo zero zero signori primo tempo lo teniamo facciamo il solito cambio facciamo il solito cambio e va bene e procediamo così procediamo così signori vediamo se riusciamo a tenere ribadisco il pareggio non mi dispiacerebbe il pareggio non mi dispiacerebbe grandissimo buongita si crea lo spazio bombo riuscito a creare lo spazio non riuscito a creare lo spazio no 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 tu me lo devi spiegare perché non mi devi dare turam tu mi devi spiegare perché non mi devi dare turam quando io te lo chiedo Tu me lo devi spiegare perché non mi dai tuo ram quando io te lo chiedo Tu me lo devi spiegare perché non mi dai tuo ram quando io te lo chiedo Mannaggia a te e a chi non te lo dice pure Signori, riusciamo a uscire da questa situazione un po' letamosa? Domando, chiedo per un amico No! Se mi chiudono in 80 mila Io come cazzo la devo fare però Se mi chiudono in 80 no dai Ma che cazzo la dico Ma non ci credo Ma non è possibile Un tiro hanno fatto Uno ne hanno fatto Mannaggia delle vostre sorelle Un tiro hanno fatto Uno Non riusciamo ad andare in anticipo su nessun pallone Su nessuno Sono sempre loro in anticipo Guarda Per recuperare Babangita Cioè io avevo la corsa ammaccata di Babangita Signori, io avevo la corsa ammaccata di Babangita Se neanche lui corre Io non ho che cosa inventarmi Se neanche lui corre Guarda Claudio Lopez che si fa recuperare in velocità Guarda Claudio Lopez che si fa recuperare Io non lo so Io non lo so Sono più veloci di me E c'è poco da fare signori Sono decisamente più veloci di me Bursche Bursche Calcio d'angolo Dai, 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 dai Crediamoci, crediamoci Ronny Ronny Riesce a girarsi Non ci credo Una finta di tiro Lì ci sta Una finta di tiro E vanno a terra Una finta di tiro E vanno a terra Porca miseria Porca miseria Porca miseria Porca miseria Una finta di tiro Mannaggia A chi non glielo dice pure Mannaggia 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 Sotto 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 sta palla Sotto sta palla Ronny Trova Claudio Lopez Ma porca Dai Sempre sotto il pallone Sempre sotto Che il duo Claudio Lopez No Calcio d'angolo Calcio d'angolo Teniamo Teniamo Signori Ventitresimo Abbiamo preso un gol Stupido Ma stupido Sarebbe bellissimo Il pareggio Signori Sarebbe bellissimo Il pareggio Mamma mia Ivano Certo Ivano Ti sei fatto fare Un gol da pollo Ma proprio Da pollo Che uno dice Ma sei così pollo Sì Sei proprio così pollo Dai 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 Ventisesimo Dai Ma non era un'azione Da gol Ma neanche nella vita Era un'azione Da gol Ma C'aveva tutta la La fascia libera E dove gli era data Era un posto irraggiungibile Ora ma è normale Niente I miei Purtroppo Non dialogano Signori I miei giocatori Non dialogano Non capiscono Niente di quello Che devono fare Riesce a mandare Ma perché Lo lancia di là Babangita Perché lo lancia di là Cioè non lo capisco No Vaci Ronny Vaci Ronny Vaci Ronny Che crediamo in te Vai Bamba Vai Bamba Vai Bamba E dai così La pareggiamo E dai così Che la pareggiamo Porca miseria Siamo riusciti a fare Finalmente una cazzarola Di azione giusta Porca miseria Meno male che Babangita Non se ne è mangiato Signori Se si mangiava Sto col Babangita Potevo Potevo insultare Praticamente Non so Chi Praticamente Ma qualcuno L'avrà insultato Malamente Qualcuno L'avrà insultato Malamente Ora riusciamo A evitare A prendere Il secondo Subito Nannaggia Riuscissimo A evitare A prendere Il 2 a 1 Sarebbe Tanta roba Ora non dico Attenzione 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 Babangita Babangita Per Ronny Per Ronny No Ma porca miseria Non siamo riusciti a fare Un'azione giusta Un'azione giusta Ancora Babangita Babangita Questa volta No Perché 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 si è fermato Perché si è fermato Perché ti sei fermato Claudio Perché Perché ti sei fermato Claudietto Perché Dilla papà Perché ti sei fermato Claudio Babangita Babangita signori Babangita 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 Bancita, calcio d'angolo Va bene, va bene, mannaggia, mannaggia Ronaldo Ronaldo Riesce a girarmi? No, no Dai, ero riuscito a girarmi di nuovo Ero riuscito a girarmi per l'ennesima volta Passerà lì Stromer No, ma che pezza bagnata Signori, che pezza bagnata Che gli ha tirato Bursche Stromer ancora lì, giustamente Che cazzo ci faceva Stromer lì, signori Chi ci sta in difesa se Stromer è lì? Chi ci sta in difesa se Stromer... Mamma mia Ivanov ha allungato il manone L'ha presa, ha allungato la manone L'ha presa Ivanov Ci salvano i minuti di recupero Ivanov Forse però, perché non è detto albito Fischi, la partita è finita, signori Pareggiamo contro Arsenal, va bene Eravamo anche fuori casa, signori, mi sta bene Mi sta bene Pareggio importante Pareggio importante, signori Pareggio importante 13 tiri a 5 Assess di Ronaldo per gol di Babangida Va bene così, signori Me lo tengo questa pareggio Me lo tengo senza se e senza ma Senza se e senza ma Come se non ci fossero domani Portiamo a casa 4 punticini Che non sono veramente male Risaliamo a 9 E andiamo avanti, signori E andiamo decisamente avanti Siamo undicesimi Con un punto in classifica Come il Liverpool Dortmund, Roma Bayard di Monaco E Valencia a 0 Le altre se ne stanno andando Ma non sono problemi nostri Detto questo, signori Vi ringrazio per guardare questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale E, signori Ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo video Bella traga Ciao Ciao